io tempo fa mi ricordo che usciva a Crespo minchia ora ragazzi è entrando Cruz dai che ora la risolve Cruz io invece quando vedi che è entrata Remme lì dico è finita finita già la partita questo non fa niente almeno Arnauto ci sbaglia gol prende il palo sbaglia rigore fa pure lui delle minchiate assurde ma si impegna quello invece proprio entra ogni tanto fa la sponda di testa perché è alto e poi si gira e mi ricordo quando entrava Cruz porca puttana entrava Martin ma qualsiasi attaccante entrava lì ora la risolve questa questo è proprio un giocatore inutile entra buongiorno ragazzi ringrazio Mario Inter che mi ha dato l'autorizzazione per passare anche lui era molto incazzato questo pezzettino di video che ha fatto su Instagram fatemi andare a ruota libera ve lo chiedo per piacere ho sempre rispettato tutto e tutti lo sfottò ci sta oggi però bisogno di essere ascoltato sicuramente la colpa non è di Taremi ma dalla panchina non abbiamo un giocatore tranne Frattesi che può cambiare la partita ad oggi l'Inter è una squadra che ha poco testa che c'è poco con la testa vedo molta meno fame poca grinta ci si specchia troppo e come ho sempre detto da inizio stagione calma perché è difficile ripetersi anche per quanto concerne le motivazioni è difficile ripetersi anche per quanto concerne le motivazioni fatemi andare a ruota libera ho bisogno di essere ascoltato e per chi volesse sostenere questo canale che non gliene frega nulla di quelli che devono dire mercato da dieci e che va tutto bene chi lo volesse sostenere questo canale lo può fare con un semplice clic e gratis tanti di noi abbiamo giocato a calcio no? chi è arrivato più su chi l'è arrivato più giù ma se io cioè allora se io sono un calciatore e so che se prendo un cartellino giallo la mia partita è finita ma chi cazzo me lo fa fare di rischiare un intervento perché all'Inter il giocatore sa che quando è ammonito verrà sostituito e si vede bene anche quando la squadra ripiega questo si nota bene facci caso quando siamo in ripiegamento si rischia poco l'intervento perché i giocatori sono condizionati da questa fobia di un allenatore sicuramente bravo tutto quello che ti pare ma che ha questa fobia dell'ammunizione un'altra cosa io non riesco a capire io non riesco a capire cioè l'unico posto dove noi non soffrivamo era la fascia destra con Bissek e Pavard lui toglie Pavard mette Scooby-Doo come lo chiama qualcuno io lo chiamo Tarzan ma perché perché è un bestione grosso Bissek che può fare tutto Bissek all'infuori del difensore mette Bissek anche lì non diamo tutta l'olpa a Bissek però ti metti Bissek e non sa più nemmeno da che parti girarsi quindi è vero mettono Idis tutto quello che ti pare ma l'unica fascia dove trenavamo bene perché di là con Senzao ci ha fatto il culo a strisce e non si apisce più nulla nemmeno di lì perché Inzaghi toglie Pavard perché ha munito e io ho sempre detto come tanti di voi se a questa squadra toglie Acerbi e ce l'ha Noblu siamo finiti ma c'è da dire quest'anno abbiamo preso il gollo anche con Acerbi perché perché la carta di identità la va avanti troppo ormai la carta di identità la va avanti troppo nel calcio se non investi prima o poi muori perché questo giochino dei parametri zero over trenta è finito lo stesso Zelischi tecnicamente è un giocatore sublime gioca da fermo non legge una linea di passaggio non legge una linea di interdizione non si abbassa a prendere la palla cammina in campo Zelischi anche se è stato uno dei meno peggio ieri senti cosa ti dico ma tutto il centrocampo è stato assente e poi al settantunesimo vinci 4 a 2 e nel secondo tempo entri con il piglio giusto con grinta con fame con voglia vedi che il quinto gol non arriva ma gestisci la partita cosa cazzo continui ad andare avanti cerchiamo di gestirla visto che siamo anche rimaneggiati perché le abbiamo prese a pallate lo c'è un allenatore lì deve capire ragazzi non entra più calma gestiamo facciamo girare la palla faccio qualche cambio tattico e invece no ha sprombattuto per fare il quinto gol come prendiamo il 4 a 2 come prendiamo il 4 a 2 prendiamo il 4 a 2 calcio d'angolo per noi ripartenza prendiamo il 4 a 2 cioè tra l'altro le mezzali le alici hanno distrutto anche lì a livello tattico devi intervenire non puoi permettere di farti bullizzare sulle fasce in quella maniera lì va fatto un accorgimento tattico che non è stato fatto su Danfris qualcuno la deve smettere di rompere i coglioni perché Danfris ha fatto un gol e te l'ha fatto fare un altro con il rigore non è errore di Danfris perché lì quando prendiamo gol ci deve essere il braccetto non ci deve essere Danfris quindi a me poi te l'ho detto il cambio che mi ha fatto veramente litigare con mia moglie ieri sera perché ho spaccato un vaso che lei aveva comprato non mi ricordo dove perché ho il tavolino mentre qua cioè ho litigato con mia moglie perché io ho visto fare una mossa all'allenatore ieri ho visto togliere il migliore in campo per mettere quel dromedario prestato a calcio che in nove minuti perde una palla sanguinolente quello è un giocatore da non mettere più in campo se non in Coppa Italia perché a me non me ne frega l'ulta se corre l'attaccante deve tirare in porta e noi non abbiamo nessuno che tira in porta non abbiamo nessuno che salta l'uomo noi abbiamo bisogno di gente che salta l'uomo di gente che tira in porta sanno come giochiamo ormai te lo sto dicendo da due tre mesi ci schermano le fonti di gioco non abbiamo il salta l'uomo e te lo ridico la terza volta l'unico modo per mettere in difficoltà le squadre avversari è far girare la palla veloce ma se ti manca se ti manca gli scambi se ti manca riempire l'aria se ti manca se sbagli qualche gol sei finito perché noi ad oggi per cinque competizioni abbiamo quattordici quindici giocatori buoni ma Tenzaki non puoi togliere Pavard per mettere Scooby-Doo come lo chiama qualcuno ma soprattutto non puoi togliere il migliore in campo il giocatore più periodoso e li ha fatti impazzire per mettere un palo della luce che viene dall'Inan è quello che mi fa incazzare a me ciao ita